Tutto quello che passa per la tata, Giustacchini ce l'ha! Anche a Natale, il menù migliore per la vostra tavola delle feste. Sabato 1 dicembre dalle 15, ve lo suggerisce lo chef Simone Ruggiati, conduttore di Cuochi e Fiamme, uno show all'Office Store Giustacchini per svelare i trucchi per rendere speciale il tuo Natale a casa. Sabato 1 dicembre dalle 15, un appuntamento da non perdere per vedere e toccare tavole natalizie da sogno, firmate Giustacchini. Office Store Giustacchini e in via Roveggia 124 a Verona.